ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube se ancora non vi siete iscritte e iscrivetevi sul mio canale youtube cliccando iscriviti in basso nel video e cliccando la campanella per poter ricevere le notifiche di ogni mio video pubblicato e se vorrete lasciarmi un messaggio alla fine di questo video se vi è piaciuto questo questo mio lavoro potete comunque lasciarmi un like oppure un commento ed io vi risponderò e andiamo avanti con con le nostre clic clac io oggi ho questa questa forma di clic clac che guardate quanto è carina con manico di bambù ed ha una dimensione diversa da quelle che io già vi ho presentato vi ho già detto che io presenterò sempre comunque clic clac diverse questa misura 16 ed ha una larghezza di esattamente 25 centimetri quindi una clic clac abbastanza importante io mi sono già avvantaggiata con il lavoro non vi ho fatto vedere normalmente come eseguirò tutta la base lo potrete vedere nei miei video precedenti su questi lavoro io comunque creo sempre una mia base di maglie basse quindi ho creato questa base con 28 maglie 28 catenelle e mi sono alzata con delle maglie basse per circa ho sviluppato una larghezza di 17 centimetri per 25 quindi sono perfettamente nella base di questa mia clic clac come vedete e quindi mi sono fermata con le maglie basse per questo lavoro per questa base adesso io andrò a realizzare un giro di maglie basse aumentando nei miei angoli quindi adesso andrò a lavorare un mio giro di perimetro quindi la mia prima maglia bassa sarà questa all'interno di questo foro quindi catenella e maglia bassa e tutti i fori sottostanti saranno delle maglie basse così tutti i fori che troverò al di sotto del mio lavoro per tutto il perimetro così e quindi rifinirò il mio giro fino a questo punto con maglie basse quindi arrivata all'angolo in questo angolo qua per tutti i quattro angoli del mio lavoro in questo angolo andrò a lavorare due maglie nello stesso foro creando il mio aumento e giro di nuovo in questo lato questa parte del lavoro quindi di nuovo partirò per tutta la parte laterale questa parte qua in maglie basse adesso toglierò il mio segna punto perché continuerò a lavorare un giro di maglie basse senza più aumenti quindi non andrò più aumentare agli angoli quindi girerò semplicemente il mio lavoro per tutto il perimetro questo è il mio punto di partenza lo vado a segnare poi andrò a contare naturalmente le maglie mi servono maglie per moltiplo di quattro per realizzare le noccioline a chiusura di giro quindi adesso tutte le maglie sottostanti maglie basse senza più aumentare agli angoli per tutto il perimetro tutte maglie basse fino ad arrivare qua a questo punto io dopo aver contato le mie maglie chiuderò il mio lavoro e inizierò a partire perché io parto sempre dalla parte laterale quindi chiuderò il mio lavoro inizierò a questo punto arrivato a questo punto ho tagliato il mio filo e vado a ricostruire il punto con l'ago tirafettuccia quindi questo è il mio punto di partenza io vado a ricostruire il mio punto in questo modo prendendo le due asole inserisco all'interno lago e ricostruisco il mio punto adesso io per questo mio lavoro ho sviluppato 144 maglie quindi le 144 maglie sono il multiplo di quattro che mi serve per poter realizzare le noccioline a chiusura a chiusura di giro quindi adesso vado a far sporire questo filo all'interno della lavorazione e partirò dalla parte laterale e creerò il mio primo giro di noccioline quindi ripartirò con la lavorazione in circolo con le noccioline faccio sparire questo mio filo poi fermerò in un secondo tempo tutti questi fili per benino come vedete il lavoro inizia ad inarcarci perché ho creato questo mio giro di maglie basse senza più aumenti adesso inizierò il mio lavoro da questa parte laterale io parto sempre da questa parte laterale del mio lavoro naturalmente dalla rovescio perché dovrò realizzare il mio primo giro di maglie appunto nocciolino quindi questa è la mia prima maglia catenella e realizzo all'interno della stessa maglia una maglia bassa nella prossima maglia realizzerò il mio punto nocciolino mio punto luciolino che è formato da 123 4 maglie alte non chiuse completamente e chiuse contemporaneamente tutte insieme e poi vado a lavorare nel punto successivo subito il mio primo punto basso mio secondo punto basso e il mio terzo punto basso le mie noccioline saranno alternate da tre maglie basse realizzo il mio prossimo nocciolino che sarà formato dalla mia prima maglia la mia seconda maglia alta non chiusa completamente la mia terza maglia e la quarta maglia ed avrò sull'uncinetto cinque maglie che andrò a chiudere tutte insieme il mio prossimo punto è la maglia bassa nel punto successivo quindi 1 2 e 3 quindi i miei nocciolini saranno alternati da tre maglie basse sempre fino alla chiusura di giro quindi di nuovo una maglia alta non chiusa completamente la seconda maglia non chiusa completamente la terza e la quarta cinque maglie sull'uncinetto chiudo tutte insieme vado a lavorare tre punti bassi tre punti di maglia bassa 1 2 e 3 ed avrò creato il mio primo giro di nocciolino quindi avrò la basse lavorata maglia bassa sempre di colore verde e il primo giro di noccioline verde dopodiché andrò a cambiare il colore perché tutte quelle rocche di filato sono miei avanzi di borse e andrò a realizzare questa questa clic clac in vari colori quindi la chiamerò arlecchina e mi piace tantissimo questa idea questo progetto vediamo come si svilupperà questo lavoro sono entusiasta di questa mia idea quindi la porterò avanti fino alla fine vediamo la realizzazione di questo lavoro arrivata a questo punto io andrò a lavorare il mio ultimo nocciolino del mio giro quindi sono quattro maglie alte non chiuse completamente questo modo e poi chiuse tutte insieme così quindi io adesso mi troverò in questa situazione cioè io ho iniziato il mio giro con una maglia bassa e nocciolino e quindi io dovrò lavorare 1 2 maglie basse e andrò a chiudere il mio giro con una maglia bassissima sopra prendendo la maglia la mia prima maglia bassa quindi ho chiuso il mio giro adesso catenella e vado a girare il mio lavoro perché dovrò lavorare un giro di maglie basse per alternare il mio nocciolino dove andrò a lavorare la mia prima maglia bassa qui in questo foro subito qui quindi questa sarà la mia prima maglia bassa 2 3 4 5 6 7 e 8 io per non sbagliarmi conto tutte le mie maglie di ritorno di maglie basse sul nocciolino mi ritroverò sempre una maglia di numero pari quindi 1 2 3 e la quarta la lavoro sempre sopra il nocciolino 1 2 3 e 4 sempre sul nocciolino quindi non mi posso sbagliare lavorerò tutto il mio giro di maglie basse in questo modo fino alla chiusura di giro adesso arrivata la chiusura di giro termino la mia lavorazione sempre con una maglia bassissima quindi andrò a chiudere qua perché sarà la mia prima maglia delle tre maglie che alternano il nocciolino quindi arrivato a questo punto ve lo faccio rivedere terminerò con la maglia bassa sopra il nocciolino vado ad agganciarmi con una maglia bassissima questo modo e vado a fare il cambio del colore ho deciso di aggiungere il colore già giallo oro io ho già detto che realizzerò questa pochette con pochette clic clac con tanti colori vado ad agganciarmi in questo modo con il colore e vado a chiudere la maglia con il colore giallo oro in questo modo quindi avrò chiuso il mio giro e avrò fatto il mio cambio di colore catenella 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 e giro il mio lavoro il mio nocciolino e la parte del rovescio quindi avrò fatto il mio cambio di colore e andrò a lavorare subito la mia maglia bassa perché mi trovo in questo punto mettiamo bene i fili e mettiamo indietro ok quindi la mia catenella vado a lavorare subito la mia maglia qui in questo punto maglia bassa questi li aggancerò bene li fermerò questo modo quindi adesso sono tre maglie basse ed un nocciolino perché il mio nocciolino deve stare tra le due noccioline sottostanti quindi saranno quattro maglie alte non chiuse e chiuse contemporaneamente tre maglie basse 1 2 e 3 nocciolino quindi alterniamo i giri con altri colori ho detto che realizzerò questa clic clac in tanti colori la chiamerò arlecchina e vi farò vedere come risulterà questo lavoro bellissimo già mi piace l'idea ecco qua quindi abbiamo questa situazione qua in questo modo questi andranno tirati andranno fermati perché devo ecco ecco io avrò questa situazione di colore quindi continuo il mio giro con il colore oro alternando sempre le noccioline con tre maglie basse quindi questa è la mia prima maglia alta non chiusa subito ma chiuse soltanto in questo modo a metà e poi quando avrò tutte e tre le maglie sull'uncinetto sono cinque andrò a chiudere tutto insieme quindi tre maglie basse 12 nocciolino prende sempre tanto filo tre maglie basse di nuovo il nocciolino non ci possiamo sbagliare perché le nostre noccioline al di sotto saranno sempre tra le due noccioline che abbiamo già lavorato quindi arriverò fino alla fine del giro e poi vi farò vedere di nuovo la chiusura di giro con questo colore oro ecco qua ci stiamo alternando con questo colore avremo questa visione di lavoro guardate che bello a me già piace già l'immagino questa borsa multicolor bellissima e si sta anche inarcando perché stiamo salendo con il lavoro quindi si sta inarcando non abbiamo fatto più aumenti ed abbiamo questa bella immagine del lavoro in questo modo ci vediamo alla chiusura di giro vado a lavorare il mio ultimo nocciolino adesso alterno sempre la mia nocciolina con tre maglie basse e siccome ho iniziato con tre maglie basse e nocciolino tre maglie basse nocciolino quindi io dovrò andare soltanto a lavorare il nocciolino a questo punto in questa maglia qui uno due tre e quattro quindi ho sempre cinque maglie sul mio uncinetto e chiudo tutte le mie maglie vado ad agganciarmi con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che ho lavorato all'inizio del giro quindi chiudo il mio giro in questo modo catenella giro il mio lavoro vado a lavorare al dritto del mio lavoro alterno il mio giro di nocciolino con maglie basse quindi la mia prima maglia bassa è sempre questa sopra il nocciolino 1 2 3 e 4 5 6 quindi ci troviamo sempre con una maglia appara sotto sopra il nocciolino non ci possiamo sbagliare con maglie pari 1 2 3 e 4 ecco qua quindi abbiamo alternato il nocciolino abbiamo fatto la chiusura di giro perfettamente non si vede nulla come vedete il cambio del colore e quindi adesso lavorerò tutto il mio giro fino alla chiusura del giro in questo punto e facciamo di nuovo il cambio del colore ho deciso che alternerò sempre una tonalità di colore con il verde di base questo questo verde scuro quindi andrò a chiudere di nuovo qui farò il cambio del colore e inizierò con il colore verde dopo di che alternerò di nuovo con un altro colore chiudo il mio giro con sempre con una maglia bassissima quindi avrò questa maglia qui che andrò a lavorare e poi la prima maglia che questa chiuderò con una maglia bassissima non ma non vado a chiuderla completamente perché adesso andrò a fare il cambio del colore ho il mio verde sempre qua sotto che io alternerò questi giri di colore con il colore verde sempre di base quindi chiudo la maglia bassissima con il colore verde catenella e giro il mio lavoro vado a lavorare di nuovo a rovescio la nocciolina quindi sarò di nuovo a questo punto il giallo lo lascio sotto dietro faccio passare dietro ci sono un po' di colori un po' di confusione di fili ma poi sistemeremo tutto quando il lavoro sarà terminato quindi passerò il mio filo di qua così e vado a lavorare la mia prima maglia bassa mi trovo a questo punto qua quindi dovrò lavorare qua e mezzo come prima perché si ripete il giro successivo quello che abbiamo lavorato prima quindi sarà sempre una maglia bassa qui quindi vediamo un po' questi fili una maglia bassa in questo punto mi trovo qua e quindi subito il nocciolino 1 2 3 4 maglie alte non chiuse e chiudiamo tutto insieme dopo aver avuto sul uncinetto 5 maglie 1 2 e 3 quindi alternerò il mio lavoro sempre con il colore verde e dopo aver fatto il giro di nocciolino verde andrò a cambiare di nuovo un colore sceglierò di nuovo un colore questi miei avanzi di filato che ho qui naturalmente ne ho tanti lavori già finiti e che comunque ho delle rimanenze di colore e andrò a metterlo in questo mio progetto quindi di nuovo nocciolino 1 2 3 4 4 maglie non chiuse insieme e chiuse tutte contemporaneamente di nuovo 3 maglie basse ed avrò di nuovo questa immagine di colore quindi di nuovo un giro di verde e poi cambierò di nuovo un colore alternerò sempre il nocciolino con le maglie basse ed avremo questa bellissima visione di lavoro molto molto bella ci vediamo alla fine del giro ho lavorato il mio ultimo nocciolino quindi dovrò lavorare le mie maglie basse ho già iniziato il giro con una maglia bassa e nocciolino quindi mi mancano le due maglie basse che andrò a lavorare adesso qui 1 2 ed ho la mia maglia bassissima qui come chiusura di giro catenella e giro il mio lavoro giro il mio lavoro ed inizierò subito il mio la mia maglia le mie maglie basse per alternare il nocciolino verde quindi la mia prima maglia bassa sarà sempre questa qui questa è la mia prima maglia bassa 3 4 maglie pari sopra il nocciolino 1 2 3 e 4 ed abbiamo questo lavoro che si sta formando man mano sta crescendo e si sta inarcando per benino questa clic clac ve l'ho fatta vedere è una clic clac molto grande molto importante anche se è molto abbondante perché comunque andrà sistemata ed è andrà indurito il fondo quindi il fondo andrà indurito quindi il lavoro è questo qui verrà in questo modo metterò la mia clic clac in questo modo poi recupero alla fine come le altre clic clac vi ho fatto vedere come si realizzano come vanno cuscite quindi avremo questa visione di lavoro molto bella quindi adesso continuerò con le mie maglie basse per tutto il giro e ci vediamo alla chiusura di giro perché andrò a cambiare di nuovo il colore quindi vi farò di nuovo vedere il cambio di colore e chiusura di giro molto importante quindi adesso tutte maglie basse fino alla fine del giro fino a chiudo il mio giro con una maglia bassissima e vado a fare il cambio del colore ho deciso di inserire il rosso possiamo scegliere tutti i colori che vogliamo per questa clic clac io ho questi colori a disposizione quindi userò questo tutti i miei colori quindi maglia bassissima non chiudo aggiungo il rosso prendo il filo e chiudo il mio giro in questo modo catenella e giro il mio lavoro vado a lavorare adesso tutto il mio giro con noccioline rosse giro in questo modo il lavoro che mi ritrovo più comoda per lavorare il nocciolino che dovrò lavorare all'interno della clic clac di questo mio lavoro quindi tiriamo sempre un pochino i fili e allora ci troviamo sempre in questa situazione quindi dovrò andare a lavorare tre maglie basse quindi le mie prime tre maglie la mia prima maglia è questa e poi tirerò bene i fili sono andata a tagliare il filo gialloro perché per adesso non mi servirà quindi mi dava un po' fastidio poi magari se mi servirà più avanti per creare di nuovo un giro di colore gialloro poi comunque lo riprenderò per adesso l'ho tagliato quindi questa è la mia prima maglia bassa due maglie basse tre maglie basse perché devo andare a lavorare il nocciolino qui al centro delle mie due maglie nocciolino al di sotto quindi sempre 23 guardate che bello anche questo rosso stupendo quindi sono cinque maglie sull'uncinetto e chiudo il mio nocciolino 1 2 e 3 adesso alterniamo questo giro di noccioline verdi con questo bellissimo colore rosso chiudo di nuovo 1 2 3 maglie basse ed avrò di nuovo questa bellissima lavorazione guardate che meraviglia come si sta come si sta formando questo lavoro una bellissima idea quindi adesso lavoro tutte le mie noccioline alternate dai 3 dalle 3 maglie basse fino alla chiusura di giro poi farò di nuovo un giro di maglie basse e poi continuerò a lavorare a riprendere il mio lavoro con il colore verde solternando tutti questi colori con il filato verde ci vediamo alla chiusura di giro nocciolino 3 maglie basse 1 2 e 3 vado a chiudere il mio giro io ho iniziato con 3 maglie basse facendo il cambio del colore quindi nocciolino finirò con il nocciolino qua in questo punto 2 3 e 4 4 maglie non chiuse tutte e chiuse tutte insieme quindi la mia prima maglia basse e questo andrò a chiudere con una maglia bassissima catenella giro guardate che meraviglia questo lavoro come si sta alternando benissimo adesso sto lavorando nella parte rovescia del lavoro perché mi trovo molto bene e lavorare il nocciolino adesso giro così vi faccio vedere la visione di questo bellissimo lavoro come si sta formando ecco qui io adesso ho la mia il mio giro di maglie basse quindi catenella ho girato il lavoro adesso andrò a lavorare tutte i maglie basse alternerò sempre queste noccioline con maglie basse in questo modo quindi tutto il mio lavoro si svolgerà così quindi il lavoro è sempre ripetuto in questo modo io avrò questi colori da usare voi naturalmente ne metterete altri quindi io con il colore rosso ho realizzato quest'altro mio giro adesso continuerò tutto il mio giro di maglie basse chiudirò il mio giro e farò di nuovo il cambio del colore perché userò di nuovo il verde per alternare questi miei colori guardate che meraviglia questo bellissimo lavoro come si sta formando veramente molto bene qui alla base metterò l'indurente vi ho fatto vedere anche nelle altre clic clac come realizzo la mia base infilato quindi inserirò il mio indurente andranno applicati anche dei piedini di colore argento perché la mia clic clac è questo colore qua argento e in bambù quindi ci vediamo adesso più avanti con il mio lavoro io mi alzerò di nuovo con le mie noccioline bicolor e vi farò vedere naturalmente la fine del mio lavoro gli ultimi giri con queste noccioline bellissime bene sono arrivata a questo punto della mia lavorazione come vedete ho realizzato questa bellissima clic clac multicolor io la chiamerò arlecchina a questo punto il nome è definitivo ed è adatto tantissimo per questa mia creazione guardate che bella e ho naturalmente alternato i miei colori sempre con il colore verde fino ad ottenere questa questa meraviglia questa meraviglia di colori è una borsa che mi dà tanta allegria perché ci sono tantissimi colori bellissimi io adesso sto continuando il mio giro con il colore verde e sto finendo questi ultimi giri con il rosso il verde di nuovo finirò con il colore oro come ho iniziato qua sotto quindi adesso andrò a fare il mio cambio di colore a questo punto arrivata alla fine del giro andrò a realizzare la mia maglia bassissima ma non chiuderò perché vi ho fatto vedere come si fa il cambio del colore e andrò ad aggiungere il colore oro in questo modo quindi catenerla per girare e giro la mia borsa ed andrò a lavorare al rovescio il punto nocciolino tirerò sempre un pochino questi questi fili ho tantissimi fili poi da sistemare all'interno quindi il mio punto il mio primo punto sarà questo qua che andrò a sistemare perché è dove ho fatto il cambio del colore quindi ho il nocciolino sotto quindi dovrò lavorare tre maglie basse tiriamo perfettamente tutti i punti e di nuovo il nocciolino composto da quattro maglie alte non chiuse tutte insieme ho cinque maglie sull'uncinetto e chiudo insieme le mie maglie di nuovo tre maglie basse alterniamo sempre il nocciolino con tre maglie basse quindi questo sarà il mio ultimo giro multicolor perché sono arrivata adesso ad un'altezza per poter chiudere il mio lavoro ed andare a applicare la click lac quindi adesso farò il mio giro con il colore oro giallo oro guardate che meraviglia ho sempre il fondo lavorato sempre ad uncinetto che poi andrò ad indurire all'interno metterò un indurente e fermerò con i piedini guardate che meraviglia questa borsa l'effetto è questo qui la visione del mio lavoro è questo ed rifinirò il mio lavoro con un giro di maglie basse perché mi darà modo di poter inserire la click lac nell'incanalatura del telaio all'interno qui quindi dovrò fare un giro di maglie basse in più adesso io continuerò con questo mio lavoro e ci vediamo più tardi alla fine del giro vado a chiudere il mio giro di maglie basse e andrò a fare il cambio del colore quindi questi sono i miei ultimi punti maglia bassissima e riprendo con il colore verde vado a chiudere la mia maglia così catenella e giro il mio lavoro perché adesso dovrò lavorare il nocciolino all'interno della mia borsa per cui adesso il mio primo punto ci sono un po' di fili naturalmente abbiamo fatto più volte il cambio del colore per cui dopo andranno a scomparire all'interno della borsa quindi il mio primo punto sarà questo e andrò a lavorare il mio primo nocciolino facciamo la mia prima maglia bassa e questa tiro i fili per benino quindi adesso mi troverò in questa situazione al centro lavorerò la nocciolina in questo punto qua 1 2 3 4 maglie chiuse a metà e poi chiuse tutte contemporaneamente così maglia bassa 1 2 e 3 il mio prossimo nocciolino quindi siamo nel negli ultimi giri di lavorazione per cui adesso alternerò questo giallo oro per chiudere i miei giri con il colore verde io ho alternato tutti questi giri di nocciolino bicolor con il colore verde quindi i miei prossimi giri saranno con questo colore verde quindi finirò con le maglie basse e chiuderò il mio lavoro quindi queste sono le ultime noccioline della mia borsa sono ad un'altezza che ritengo buona per poter chiudere il mio lavoro ed applicare la cerniera la clic clac che ho scelto l'avete vista in colore argento e bambù il manico di bambù quindi io adesso mi trovo in questa situazione qua guardate che meraviglia con questo questi bellissimi nocciolini colorati bellissima quindi adesso io continuerò con il mio nocciolino e un giro di maglia bassa alternare il mio nocciolino con la maglia bassa sempre di colore verde e poi vedrò se riterò opportuno chiudere il mio lavoro con soltanto un giro di maglie basse oppure un altro per poter inserire all'interno della cerniera in questa incanalatura il bordo questo bordo qua se è sufficiente perché potrebbe dare fastidio alla nocciolina quindi penso di dover fare un altro giro di maglie basse quindi continuerò così il mio lavoro fino alla chiusura del giro e poi alternerò con un giro di maglie basse sono arrivata alla chiusura di giro ed ho ritenuto indispensabile dover eseguire anche un altro giro di maglie basse oltre quello alternato al punto di noccioline quindi questi due ultimi giri sono di maglie basse quindi un giro in più di maglia bassa per poter permettere alla mia click-clack di essere inserita il lavoro inserita all'interno qui dell'incanalatura del telaio di questa click-clack quindi arrivata a questo punto io ho tagliato il filo non chiudo ancora la mia maglia perché vado a fare la ricostruzione del punto abbiamo visto più volte come si ricostruisce il punto adesso ve lo farò rivedere prendiamo l'ago di rifettuccia ed inseriamo in questa maglia il filo e torniamo di nuovo sulla maglia su questa maglia qui e formiamo ricostruiamo il punto in questo modo bene io adesso mi sono alzata vi do anche la misura dell'altezza di questo mio lavoro chi vorrà riprodurre questa borsa è alta 23 cm guardate che meraviglia si è sviluppato questo lavoro multicolor molto molto bello a me piace tantissimo adesso andrò a far sparire innanzitutto tutti i fili all'interno del mio lavoro perché sono tanti quindi pian piano sistemerò i fili all'interno e poi inizierò a cucire la cerniera la cerniera al mio lavoro quindi ci vediamo più tardi vi farò vedere un pochino come vado a cucire la mia cerniera il mio telaio intorno alla mia borsa bene ho terminato il mio lavoro ed ho inserito per benino all'interno i miei figli ho fatto passare tutti i miei figli all'interno per farli scomparire completamente ed alla base ed ho inserito i miei piedini e all'interno l'indurente per rendere questa base più rigida adesso io andrò ad inserire la clicklack quindi vi ho fatto vedere anche nei video precedenti come inserisco nel telaio in questa incanalatura il mio lavoro e lo vado a cucire con il filo il cordonetto semplicemente andrò a fare una cucitura tutto intorno il cordonetto che è un filo molto resistente che usiamo per le borse bene io adesso andrò a fare questo lavoro e poi vi presenterò naturalmente la borsa completamente finita e assemblata completamente guardate quanto è bella mi piace tantissimo è una borsa che dà allegria con tutti questi colori molto vivaci adatta in qualsiasi stagione perché queste borse non hanno stagione si possono indossare sempre i miei filati naturalmente sono italiani tutti italiani quindi sono lavabili e sono resistenti quindi sono bellissime anche molto brillanti guardate che bella che bella visione di questo lavoro bene allora ci vedremo più tardi io vi farò vedere la borsa completamente finita bene ragazzi io ho terminato il mio lavoro guardate che meraviglia questa borsa questa click clack una click clack molto grande bellissima con questo manico in bambù sono andata ad assemblare la borsa cucendo con ago semplice ago e cordonetto poi ho scelto un colore rosso perché mi sembrava più adatto per questa borsa l'ho chiamata arlecchina mi sembra il nome più adatto per questa borsa multicolor bellissima guardate che meraviglia alla base ho inserito un indurente per rendere la base più rigida ed ho inserito i piedini in argento bellissima stupenda io la trovo veramente molto molto allegra poi il mio prossimo passaggio naturalmente sarà l'inserire all'interno della borsa una fodera adatta guardate che meraviglia nei miei video precedenti avete il video tutorial per la cucitura del telaio quindi per la cucitura del telaio e per l'inserimento all'interno della stoffa come si realizza una stoffa da inserire all'interno di queste bellissime click-clack questi bellissimi lavori che si realizzano con questi telaio molto belli sempre molto diversi io proporrò sempre telaio diversi di misure diverse con diverse tipologie di click-clack naturalmente seguitevi sempre sul mio canale youtube ricordatevi che iscrivervi non è a pagamento iscrivete anche le vostre amiche creative e condividete questo mio lavoro ricordatevi che io sono anche admin del gruppo le creative dell'uncinetto solo borsa e siamo tantissime iscrivetevi anche sul mio gruppo facebook che vi aspetto e condividete con tutti noi i vostri lavori io vi saluto ricordatevi che io non mi fermerò qui con queste mie bellissime click-clack ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti